Gli audio racconti, serie, il giallo inglese, J. Reader indaga, lo strano caso, di Edgar Wallace. Letto da Dami. Al tempo in cui il signor Reader era giovane, i giorni in cui si affittavano ancora le carrozze e in cui nessun gentiluomo avrebbe mai sognato di viaggiare all'estero senza un fiore all'occhiello, il signor Reader venne inviato, assieme ad un altro imberbe funzionario di Scotland Yard, ad arrestare un giovane inventore di Nottingham, che aveva guadagnato ingenti somme con metodi che a Scotland Yard non risultavano molto graditi. Questo giovanotto non aveva inventato apparecchi ingegnosi per risparmiare fatica, bensì aveva inventato storie. Però non erano storie nel senso comunemente accettato, ma inganni fraudolenti, intesi a spillare denaro dalle tasche di uomini e donne troppo ingenui. Il signor Willie Helter impiegava non meno di venticinque nomi diversi e altrettanti indirizzi falsi nel compimento della sua finzione, ed era stato lì lì per accumulare una fortuna considerevole, se non si fosse frapposta una nemesi pedante che alla fine lo aveva condotto di fronte alla giustizia. Un giudice l'aveva giudicato senza alcuna simpatia e l'aveva rinviato a sette anni di lavori forzati, descrivendolo come un truffatore incosciente e una minaccia per la società. A quel punto Willie Helter aveva sorriso, perché aveva la pelle al cui confronto quella di un elefante pareva un leggero velo. Il signor Reader ricordava il caso soprattutto perché il pubblico ministero, commentando i vari travestimenti e sotterfugi adottati dal colpevole, aveva sottolineato una peculiarità che appariva in ogni parte recitata dall'imputato. Costui era assolutamente incapace di scrivere la parola potrete, che invariabilmente trasformava in portete. Una simile debolezza è peraltro riscontrabile in ogni criminale, per quanto ingegnoso possa essere, aveva detto l'avvocato. In qualsiasi travestimento, a prescindere da quanto ci si immedesimi nella parte, esiste sempre una distinguibile falla, particolarmente osservabile nei criminali che vivono di frodi e di truffe. Il signor Reader si era sempre ricordato di questo particolare per tutta la sua vita operativa, benché pochi sapessero che un tempo aveva fatto parte di Scott Randiard. Era lui stesso ad evitare ogni domanda sull'argomento e faceva parte del suo stile fingere di essere il più puro dei dilettanti, affermando che i successi nella cattura dei malfattori, dipendevano principalmente dalla sua mente contorta, che vedeva tanto spesso il male laddove effettivamente il male dimorava. Vedeva il male in moltissimi atti apparentemente innocenti, ed era un bene per la sua reputazione che quelli che lo conoscevano e lo compativano per la sua apparente incapacità e per il suo aspetto scialbo, non sapessero quali cupi pensieri gli frullavano nella mente. Nella vita del signor Reader c'era una ragazza molto graziosa che abitava in Broccoli Road in una pensione. La signorina Margaret Bellman non gli piaceva tanto perché era bella, quanto perché era una ragazza di buonsenso, due termini che solitamente sono in contrasto tra di loro. La ragazza gli era talmente simpatica che spesso faceva assieme a lei la strada in macchina, discutendo del principe di Galles, del governo laborista, dell'aumento del costo della vita e di altre simili quisquiglie con grande accanimento. Fu proprio dalla signorina Bellman che Reader venne a sapere della sua co-affettuaria, la signora Carlin. Una volta fece anche con lei la strada fino a Broccoli. Era una ragazza fragile e sottile, con il viso pieno di esperienza e la traccia di una tragedia nei bei occhi azzurri. Fu così che il signor Reader seppe del signor Henry Carlin ben prima che Lord Sellington lo interessasse al caso, e questo perché Reader sapeva come evocare confidenze più che vuote espressioni di simpatia. La donna parlava del marito che l'aveva abbandonata senza amarezza ma anche senza alcuna nostalgia. Lo aveva capito assai bene, malgrado la brevità del loro matrimonio. Una volta aveva intuito che esisteva un parente ricco da cui suo marito avrebbe potuto ricavare una cospicua eredità se solo fosse stato un uomo normale. Loro figlio, a sua volta e al momento opportuno, sarebbe venuto in possesso di un prestigioso titolo nobiliare, anche se per via del padre non avrebbe avuto un soldo. La donna aveva messo un grande impegno nel cercare le parole più giuste, e il signor Reader, naturalmente sospettoso di una nobile donna che si adattasse ad abitare a Brockley, si era definitivamente convinto della sua sincerità, anche se doveva aver commesso qualche grosso errore. In seguito venne a sapere che il roboante titolo era quello di sua eccellenza il conte di Sellington e Manford. Seguì un periodo di inattività per l'ufficio del pubblico ministero, in cui si ebbe l'impressione che la malvagità avesse abbandonato il mondo. Il signor Reader rimase una settimana rinchiuso nella sua piccola stanza a girare i pollici, leggendo le colonne di piccola pubblicità del Times o scarabocchiando figure grottesche sul suo quaderno d'appunti, variando di tanto in tanto quell'attività per darsi alle escursioni che solitamente faceva in quelle zone di Londra che ben poche persone sceglievano per distrarsi. Si divertiva a frugare negli squalli di quartieri attorno ai docks di Great Surrey, e non gli dispiaceva nemmeno frequentare il lato nord del fiume, sempre nella zona dei docks. Tuttavia, quando il suo capo gli chiese se trascorresse molto tempo a Lime House, il signor Reader rispose con un sorriso patetico. No, signore, disse gentilmente. Normalmente leggo di posti come quello, e li trovo infinitamente più interessanti nelle pagine di... di un romanzo. È vero che là ci sono i cinesi, e suppongo che i cinesi siano romantici. Tuttavia, anche loro non riescono a rendere romantico un posto come Lime House, che è certamente il più rispettabile e severo angolo dell'E-Stand. Un giorno, il pubblico ministero mandò a chiamare il suo investigatore capo, e il signor Reader rispose con passo leggero e un piacevole senso di attesa. Dovete andare al Ministero degli Esteri a parlare con Lord Sellington, disse il pubblico ministero. È piuttosto preoccupato per suo nipote, Henry Carlin. Avete già sentito il suo nome? Il signor Reader scosse il capo. Infatti, in quel momento non aveva associato il nome con la ragazza pallida, abbandonata dal marito, che faceva la dattilografa per vivere. Un bel pezzo da galera, spiegò il pubblico ministero, ma fortunatamente per lui è anche l'erede di Sellington. Immagino che l'anziano signore vorrà chiedere conferma del suo punto di vista. «Oh, povero me!» esclamò il signor Reader, prima di andare via. Lord Sellington, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, era a scapolo ed era immensamente ricco. Era diventato ricco nel 1912, quando nel panico seguito a certe leggi che secondo lui avrebbero negativamente influito sui suoi grandi possedimenti terrieri, aveva infine venduto tutto investendo la maggior parte della sua fortuna in azioni industriali americane, seppur contro il parere di tutti gli esperti. La guerra aveva triplicato le sue sostanze e i pesanti investimenti in terreni petroliferi, lo avevano reso molte volte milionario. Era anche un filantropo, che elargiva liberamente ad istituzioni dedicate all'assistenza dei bambini. Era anche il fondatore della Casa del Bambino di Eastlake e firmava generose sottoscrizioni ad altre istituzioni analoghe. Il suo volto era scarno e severo, e ora fissava il signor Reader al di sotto delle sopracciglia cespugliose, mentre questi osservava a disagio la stanza. Dunque voi siete Mr. Reader, non è così? Borbottò, ed era evidente che quel visitatore non lo impressionava affatto. Sedete, sedete, disse stizzito, e si avvicinò alla porta, come se non fosse sicuro che il signor Reader si fosse ricordato di chiuderla. Poi tornò indietro, e si lasciò cadere nella poltrona dall'altro lato del tavolo. «Ho preferito chiamare voi piuttosto che la polizia», confessò. «Sir James parla di voi come della discrezione in persona.» Il signor Reader accennò un breve inchino, a cui seguì una pausa imbarazzante, che il sottosegretario concluse con un gesto improvviso ed irritato. «Ho un nipote, Henry Carlin. Lo conoscete?» «Lo conosco», affermò il signor Reader, che nel percorso fino al Ministero degli Esteri si era ricordato della moglie abbandonata. «Certamente non avrete sentito niente di buono sul suo conto.» Esplose e sua signoria. «È un'anima nera, uno sciupone, una disgrazia per il nome che porta. Se non si trattasse del figlio di mio fratello, ormai lo avrei fatto mettere sotto chiave quel mascalzone.» «Posseggo quattro documenti.» Si interruppe e aprì violentemente un cassetto da cui estrasse una lettera che gettò sul tavolo. «Leggete», sbottò. Il signor Reader spinse gli occhiali a pansnee un po' più sulla cima del naso. Quando li voleva utilizzare veramente, li teneva ben attaccati agli occhi. Lesse velocemente. La lettera era intestata a casa del bambino di Eastlake, ed era una breve richiesta di 5.000 sterline, nella quale lo scrivente affermava che avrebbe mandato qualcuno quella sera stessa. Era firmata Arthur Lazard. «Naturalmente voi conoscete Lazard», chiese sua signoria. «Si tratta del gentiluomo mio socio in questa opera filantropica.» Dovevo una certa somma per l'acquisto di terreni limitrofi alla casa del bambino. Forse voi sapete che certi avvocati non accettano mai assegni per trattare le proprietà che i clienti affidano loro. Per cui avevo già preparato il denaro e lo avevo lasciato al mio segretario, dato che una persona di Lazard avrebbe dovuto passare a ritirarlo. «Inutile che vi dica che effettivamente venne ritirato», disse cupamente sua signoria. «Chiunque abbia progettato il colpo lo ha fatto molto bene. Sapevano che l'altra sera avrei dovuto parlare alla Camera dei Lord. Sapevano inoltre che recentemente avevo cambiato il segretario e ne avevo assunto uno che non conosce ancora la maggior parte dei miei soci. Venne a riscuotere un uomo con la barba, verso le sei e mezza. Presentò un biglietto del signor Lazard e così il denaro prese il volo, anche se questa mattina si è scoperto che quei soldi sono stati cambiati in valuta americana. Naturalmente entrambe le lettere erano state falsificate e Lazard non aveva firmato mai nessuna delle due, né aveva mai richiesto il denaro che non doveva essere devoluto prima di una settimana. Qualcun altro sapeva della transazione? Chiese il signor reader. Sua signoria annui lentamente. Mio nipote lo sapeva. Venne a casa mia due giorni fa a chiedere soldi. Possiede una piccola rendita, derivante dalle proprietà della sua povera mamma. Tuttavia è insufficiente a soddisfare le sue avventate stravaganze. Ammise apertamente di essere ritornato da Aix-en-Provence senza un soldo. Non saprei dire per quanto tempo sia rimasto a Londra. Tuttavia era nel mio studio quando entrò il mio segretario con i soldi che avevo fatto ritirare dalla banca in anticipo per pagare il debito quando sarebbe stato il momento. Stupidamente gli spiegai perché avessi tutto quel denaro in casa e perché non fossi in grado di soddisfare la sua richiesta di mille sterline in prestito. Il signor reader si grattò il mento. Che cosa dovrei fare esattamente? Chiese. Voglio che troviate Carlin. Quasi ruggì Lord Sellington. Ma soprattutto voglio indietro il mio denaro. Avete capito signor reader? Gli dovrete dire che se non me lo ridà... Il signor reader ora fissava attentamente le volute di una cornice. Si direbbe quasi che voi mi chiediate di mettere a tacere un crimine, signore. Disse rispettosamente. Tuttavia mi rendo conto che, date le speciali circostanze, si debbano adottare metodi speciali. L'uomo con la barba nera che è venuto a prendere il denaro, dava l'impressione, come dire, di essere camuffato. Era certamente camuffato, sbottò l'altro irritato. Si legge spesso di cose simili. Eppure lo sconosciuto con la barba finta appare assai di rado nella vita reale. Sareste così gentile da fornirmi l'indirizzo di vostro nipote. Lord Sellington estrasse il biglietto dal portafoglio e lo gettò sul tavolo. Il biglietto cadde a terra, ma l'uomo non si scusò. Era fatto così. Germyn Mansion. Lesse il signor reader raccogliendo il biglietto. Vedrò cosa posso fare. Lord Sellington grugnì qualcosa che avrebbe anche potuto essere un amichevole arrivederci, ma probabilmente non lo era. Germyn Mansion è un piccolo edificio con una stretta facciata e, come a conoscenza del signor reader, che sapeva molte cose, si trattava di una casa di appartamenti residenziali gestiti da un ex maggiordomo che fungeva anche da affettuario. Fu una bella fortuna, come ebbe poi a scoprire il signor reader, che Henry Carlin fosse in casa. Così, dopo pochi minuti, l'uomo del pubblico ministero venne fatto accomodare in uno squallido salotto che si affacciava su Germyn Street. Un giovane alto stava in piedi di fronte alla finestra con espressione sconsolata a fissare la via stretta ma animata e si voltò verso il signor reader quando questi gli venne annunciato. Aveva il volto affilato, la testa stretta, gli occhi piccoli e, se c'era un tratto o un difetto di famiglia che possedeva, doveva essere sicuramente la facile irritabilità. Attraverso la porta spalancata, il signor reader scorse una camera da letto assai disordinata e intravide una grande valigia in cattivo stato coperta da etichette continentali. «Allora, cosa diavolo volete?» domandò il signor Carlin. Eppure, malgrado il tono, si intuiva con chiarezza una forte inquietudine. «Posso sedermi?» disse il detective e, senza attendere conferme, tirò una sedia da contro il muro e si sedette guardingo, dato che ben conosceva la qualità delle sedie nelle case in affitto. I modi decisi e la nota autoritaria nella voce accrebbero grandemente il disagio del signor Henry Carlin e, quando alla fine il signor reader giunse direttamente al punto, vide che l'altro impallidiva. «Mi rendo conto che è un argomento di non facile ridiscussione». Osservò il signor reader lisciandosi le ginocchia. «E quindi preferirei usare il linguaggio più diretto possibile». Infatti usò un linguaggio assai diretto, quasi con gusto. A un certo punto Carlin si dovette sedere sconvolto. «Cosa?» balbettò. «Quel vecchio brutto oserebbe tanto». «Avevo pensato che voi foste venuto per le cambiali, voglio dire». «È chiaro», disse il signor reader cercando le parole, «che se per caso aveste voluto divertirvi con il vostro parente, forse ora la bravata è andata un po' troppo oltre». «Lord Sellington è disposto, previa restituzione del denaro, a considerare l'intera faccenda come una specie di scherzo troppo elaborato da parte vostra». «Ma io non ho toccato il suo maledetto denaro. Non voglio il suo denaro». «Al contrario, signore», ribatté reader molto gentilmente. «Voi lo desiderate moltissimo. Avete lasciato l'hotel continental senza pagare il conto. Dovete circa 600 sterline a vari gentiluomini a cui avete chiesto denaro in prestito. In Francia è stato spiccato un mandato di cattura contro di voi, per aver utilizzato assegni volgarmente definiti fasulli». In verità, Mr. Reeder si grattò di nuovo il mento fissando fuori dalla finestra. «In verità non conosco altri gentiluomini in Germain Street che abbiano bisogno di denaro quanto ne avete voi». «Forse Carlin avrebbe dovuto fare qualcosa per interromperlo». «Ma l'uomo di mezza età continuò a parlare senza alcuna pietà». «Ho trascorso un'ora nel dipartimento segnalettico di Scotland Yard e ho appreso che il vostro nome non è sconosciuto da quelle parti, signor Carlin. Avete lasciato Londra piuttosto in fretta per evitare certi provvedimenti di carattere spiacevoli, diciamo. Immagino che voi li definiate cambiali, non è così? Si sa che avete frequentato personaggi a voi meglio noti di quanto possono esserlo alla polizia stessa. Inoltre avete preso parte ad una certa frode alle corse e tra i vostri reati minori figura anche una... giovane moglie abbandonata, attualmente impiegata in un ufficio della City come dattilografa, assieme ad un bambino a cui voi non avete mai provveduto. Carlin a questo punto si passò la lingua sulle labbra inaridite. «È tutto?» chiese cercando di insinuare nella voce alterata un tono ironico, mentre le mani gli tremavano visibilmente e tradivano la sua agitazione. Reader annui. «Bene, vi dirò una cosa. Voglio comportarmi correttamente con mia moglie, anche se ammetto di non essere stato leale nei suoi confronti. Però non ho mai avuto il denaro per comportarmi lealmente. Quel vecchio demonio ha sempre approfittato della situazione, maledetto lui. Sono io il suo unico parente. E cosa ha fatto lui? Ha lasciato ogni briciola a quei dannati orfani. Se qualcuno gli ha fregato le cinquemila sterline, ne sono proprio contento. Io non ne avrei avuto il coraggio, ma sono contento che qualcuno lo abbia fatto, chiunque sia stato. Lasciare tutto ad uno sciame di marmocchi vocianti e con le labbra appiccicose. E niente a me». Il signor Reader lo lasciò sfogare senza mai interromperlo. Finché alla fine, come esaurito dallo sforzo, l'uomo si lasciò cadere su di una grande sedia, fissando il suo ospite. «Diteglielo», aggiunse senza fiato. «Diteglielo». Il signor Reader guadagnò tempo, in modo da poter contattare il piccolo ufficio di Portugal Street, dove era la sede delle attività filantropiche di Lord Sellington. Evidentemente il signor Arthur Lazard era stato in comunicazione con il suo nobile patrocinatore. Infatti riderebbe appena il tempo di dire il suo nome, che immediatamente venne fatto entrare in una stanza con mobili sobri, dove seduto lo attendeva il suo uomo. Non era strano che il socio di Lord Sellington per le attività benefiche fosse una persona famosa come Arthur Lazard. Le attività di Lazard nel mondo della filantropia erano molteplici. Si trattava di un uomo dalle grandi spalle, con una faccia rossa e gioviale e la testa calva. Già in passato aveva resistito agli attacchi che gli erano venuti da altri uomini impegnati in opere di carità, e non era rimasto particolarmente impressionato dalla visita che recentemente gli aveva fatto Henry Carlin. Non intendo apparire scortese, disse. Ma il nostro amico ha telefonato con una scusa talmente fragile che non posso far a meno di pensare che forse il suo unico scopo fosse quello di sottrarmi un foglio di carta intestata. In verità l'ho lasciato da solo per qualche istante, sicché ha avuto tutto il tempo di sottrarre il foglio di carta, se aveva questa intenzione. E qual era la scusa? Chiese il signor Reader, e l'altro si strinse nelle spalle. Voleva dei soldi. Inizialmente è stato corretto, e mi ha chiesto di persuadere lo zio. Poi si è fatto insistente, e ha detto che cospiravo a derubarlo. Io e la mia carità infernale. Rise, ma subito ritornò serio. Per me la situazione è misteriosa, commentò. Evidentemente Carlin deve aver commesso un crimine contro sua signoria, per cui ora ne è terrorizzato. Pensate che il signor Carlin abbia falsificato il vostro nome e intascato il denaro? Il sovrintendente allargò le braccia disperato. E di chi altri potrei sospettare? Chiese. Il signor Reader estrasse la lettera falsificata dalla tasca e la rilesse. Ho appena parlato al telefono con sua signoria. Continuò Lazard. Naturalmente attende di sentire il vostro rapporto, e se non foste riuscito ad ottenere una confessione dal giovanotto, Lord Sellington intende vedere il nipote questa sera, per rivolgergli un appello. Non riesco a credere che il signor Carlin abbia commesso questa azione terribile. Tuttavia le circostanze appaiono assai sospette. Lo avete già incontrato, signor Reader? L'ho visto, disse bruscamente Reader, e poi ripeté. Sì, sì, l'ho visto. Il signor Arthur Lazard osservava la faccia dell'investigatore come se cercasse di leggervi le conclusioni a cui l'uomo era giunto, ma la faccia del signor Reader era notoriamente priva di espressione. Reader offrì rigidamente la mano e ritornò a casa del sottosegretario. Il colloquio fu breve e totalmente spiacevole. «Non ho mai pensato che vi avrebbe fatto una confessione», sbottò Lord Sellington mascherando male il suo disprezzo. «Harry deve confrontarsi con qualcuno capace di spaventarlo. Eh mio Dio, sono io l'unico in grado. Lo incontrerò questa sera!» Fu interrotto da un attacco di tosse e inghiottì nervosamente un sorso di un medicinale che teneva sulla scrivania. «Lo incontrerò questa sera», disse affannosamente. «Egli dirò ciò che intendo fare. Fino ad ora l'ho risparmiato per via della parentela e perché comunque sarà l'erede del titolo. Ma adesso basta. Ogni soldo che ho andrà in opere caritatevoli. Vivrò vent'anni o meno, ma ogni soldo...» Si interruppe. Non sapeva nascondere le emozioni e il signor Reader, che gli uomini li capiva, vide la lotta che aveva luogo nella mente di Sellington. «Dice che non ha avuto possibilità, che l'ho trattato in maniera scorretta. Staremo a vedere». Fece cenno all'investigatore di allontanarsi dall'ufficio come avrebbe allontanato un cane randaggio che si era infilato in casa. E il signor Reader se ne andò un po' riluttante, perché avrebbe avuto qualcos'altro da dire a sua signoria. Reader, nei suoi momenti di introspezione, cercava la riservatezza nel suo studio di Brockley Road, tra i vecchi arredi. Sedette la scrivania per due ore, chiamando una serie di numeri. E, cosa abbastanza curiosa, i signori con cui parlò erano soprattutto bookmaker, che in gran parte conosceva di persona. Nei giorni in cui egli era stato il massimo esperto mondiale di banconote false, era dovuto venire in contatto con una classe che sovente è il mezzo innocente attraverso cui il falsario distribuisce il frutto della sua attività. Ma ancora più spesso è anche lo strumento per il suo arresto. Era un venerdì, giornata in cui la maggior parte dei dirigenti si fermava negli uffici più a lungo del solito. Terminò alle otto, scrisse un biglietto, poi chiamò un fattorino per portare la lettera al suo destinatario. Trascorse il resto della serata pensando alle passate esperienze, rinfrescando la memoria con la lettura dei quaderni di appunti che occupavano due scaffali del suo studio. I fatti che occorsero altrove quella sera possono essere meglio riassunti con lo scarno linguaggio usato normalmente sulla pedana dei testimoni. Lord Sellington era tornato a casa dopo il colloquio con il signor Reader con addosso un forte raffreddore e, secondo la testimonianza del suo segretario, aveva maturato l'intenzione di rinunciare al colloquio che aveva organizzato con il nipote. Era stato inviato un messaggio telefonico all'albergo del signor Carlin, ma l'uomo era fuori. Fino alle nove sua signoria fu impegnato con le sue numerose opere di carità coadiuvato da signor Lazard. Lord Sellington lavorava in un piccolo studio che si apriva direttamente accanto alla sua camera da letto. Alle nove e un quarto arrivò Carlin, che venne accompagnato al piano superiore dal maggiordomo, il quale in seguito affermò di aver sentito provenire dallo studio delle voci irate. Il signor Carlin scese e venne accompagnato all'uscita esattamente alle nove e mezza e, pochi istanti dopo, Lord Sellington suonò per chiamare il cameriere, il quale salì per aiutare il padrone ad andare a letto. Alle sette e mezza del mattino successivo, il cameriere, che dormiva nell'appartamento attivo, andò nella camera del padrone per portargli una tazza di tè e lo scoprì steso a terra con la faccia in giù, morto da alcune ore. Non c'era segno di ferite e ad una prima analisi si sarebbe detto che l'uomo di 60 anni avesse avuto un collasso durante la notte, anche se esistevano circostanze che parevano indicare qualche avvenimento inconsueto. Nella camera di Lord Sellington c'era una piccola cassaforte e il cameriere notò subito che era aperta. Per terra c'erano dei fogli e nel caminetto era visibile un mucchietto di carte completamente bruciate, tranne in un unico angolino. Il cameriere telefonò immediatamente al medico e alla polizia e, da quel momento, il caso uscì ufficialmente dalle abili mani del signor Reeder. Quella stessa mattina, più tardi, Reeder riferì brevemente al suo superiore i risultati dell'inchiesta. «Omicidio, temo», disse tristemente. «Il medico legale del Ministero degli Esteri è perfettamente certo che si tratti di un caso di avvelenamento da aconitina. Hanno fotografato la carta nel caminetto e non c'è alcun dubbio che si tratti del documento con cui Lord Sellington lasciava tutti i suoi averi ad alcuni istituti di carità». Fece una pausa. «Allora?», chiese il capo, «che cosa significa?». Il signor Reeder tossì. «Significa che, se questo testamento non potrà essere pubblicato, e dubito che ce ne sia un altro, sua signoria è morto senza alcun testamento, perciò ogni suo avere va con il titolo». «A Carlin», chiese il pubblico ministero colpito. «Il signor Reeder, a noi». Sono stati bruciati anche altri documenti. Quattro lunghe strisce di carta che erano state evidentemente unite assieme con uno spillo. Le scritte sono quasi del tutto indecifrabili. Reeder sospirò di nuovo. Il pubblico ministero sollevò lo sguardo. «Non avete fatto cenno alla lettera che è arrivata tramite un fattorino a Lord Sellington?» «No, non ne ho parlato», disse riluttante. «È stata ritrovata?» Il signor Reeder esitò. «Non lo so, ma credo proprio di no», ammise. «Potrebbe gettare nuova luce sul crimine, secondo voi?» «Oh, mi parebbe di sì. Ma... mi volete scusare, signore? L'ispettore Salter mi sta aspettando». E uscì dalla stanza prima che il pubblico ministero potesse chiedergli altro. L'ispettore Salter camminava nervosamente su e giù per la piccola stanza quando ritornò il signor Reeder. Lasciarono assieme l'edificio e la macchina che li attendeva li portò a Jeremy Street in pochi minuti. Fuori dalla casa c'erano tre poliziotti in borghese, che evidentemente erano in attesa del loro capo. E l'ispettore entrò nell'edificio, seguito da vicino da signor Reeder. A metà delle scale, Reeder gli chiese. «Carlin vi conosce?» «Dovrebbe», fu la cupa risposta. «Feci del mio meglio per assicurarlo alla giustizia prima che schizzasse via dall'Inghilterra». «Mugugnò il signor Reeder. Mi spiace che lui vi conosca». «Perché?» L'ispettore si fermò sulle scale. «Perché ci ha visti uscire dal taxi. Ho scorto per un attimo la sua faccia dietro una finestra». Si fermò all'improvviso. Il rumore di uno sparo risuonò per tutta la casa e, dopo un attimo, l'ispettore si era già lanciato in avanti facendo i gradini a due a due e piombando nell'appartamento occupato da Carlin. Bastò uno sguardo alla figura prostrata per capire che erano arrivati troppo tardi. L'ispettore si chinò sul morto. «Questo ha risparmiato alla comunità il costo di un processo per omicidio», commentò. «Credo proprio di no», ribatté il signor Reeder gentilmente e poi espose le proprie ragioni. Mezz'ora più tardi, mentre il signor Lazard usciva dal suo ufficio, un detective lo toccò sulla spalla. «Voi vi chiamate Willie Helter», disse, «e vi dichiaro in arresto per omicidio». «In realtà era un caso davvero semplice, signore», spiegò il signor Reeder al suo capo. «Naturalmente conoscevo personalmente Helter, ma la cosa che ricordavo meglio era la sua incapacità di scrivere la parola potrete». Io riconobbi immediatamente questa particolarità del nostro amico nel momento in cui potei leggere la lettera che scrisse al suo patrocinatore chiedendogli del denaro. Fu lo stesso Helter, camuffato con una barba finta, a ritirare le 5.000 sterline. Questo è certo. Willie Helter, o Arthur Lazard, è ed è sempre stato un giocatore accanito, e non dovetti fare molte indagini per scoprire che era in debito di una forte somma, e che un bookmaker aveva minacciato di trascinarlo di fronte ad una corte di giustizia se non avesse pagato. Questo avrebbe significato la fine per il signor Lazard, il filantropo amico dei bambini, che tra l'altro era proprio il ruolo di Helter. Gestiva false società di beneficenza, ed era straordinariamente facile trovare gonzi che sottoscrivevano offerte filantropiche. Molti anni fa, quando ero giovane, io contribuì a fargli a più pare sette anni. Da allora lo avevo perso di vista, finché non vidi la lettera che lui aveva inviato a Lord Sellington. Per sua sfortuna c'era una frase che diceva, sarò lieto se portete consegnare il denaro al mio fattorino. Aveva scritto proprio portete come faceva Helter. Feci delle ricerche su di lui e me ne assicurai. Scrissi a sua signoria, che a quanto pare non aprì la lettera fino all'altra notte tardi. Helter gli aveva telefonato in serata e aveva avuto con lui una lunga conversazione. Posso solo presumere che forse Lord Sellington avesse espresso qualche dubbio a lasciare suo nipote senza un soldo, anche se il giovanotto era un mascalzone, ed Helter era aterrorizzato dalla possibilità che il suo piano per entrare in possesso degli averi del vecchio signore potesse fallire. Inoltre la mia apparizione nel caso lo aveva spaventato. Così decise di uccidere Lord Sellington quella notte. Prese con sé la conitina e l'introdusse nella bottiglietta della medicina che stava sempre sul tavolo di Sellington. Immagino che prima di andare a letto Lord Sellington aprì la lettera che gli avevo inviato attraverso un fattorino speciale a Stratford Place. Era sua dunque la lettera consegnata da un fattorino. Il signor Reader annui. Forse Sellington era ormai sotto l'influenza della droga quando dopo aver letto la lettera decise di bruciare il testamento a favore di Lazar, bruciando anche le quattro gambiali che Carlin aveva falsificato e che il vecchio usava per minacciarlo. Carlin dal canto suo deve aver saputo che lo zio era morto e certamente aveva riconosciuto l'ispettore mentre questi usciva dal taxi. Ha pensato di poter essere arrestato per falsificazione o peggio per l'omicidio dello zio e si è sparato. Il signor Reader strinse le labbra e il suo viso malinconico si allungò ancora di più. Chissà cosa sarebbe successo se non avessi mai incontrato la signora Carlin. Il fatto che l'avessi conosciuta introduce quell'elemento di coincidenza che forse è ammissibile nei romanzi ma è angoscioso nella vita reale. Scuote la nostra fiducia nella logica. L'unica consolazione che abbiamo è che ora a titolo ed eredità andranno al povero figlio della signora Carlin. In fin dei conti tutto è finito ugualmente ad un orfano. Gli audio racconti Serie Il giallo inglese J Reader indaga Lo strano caso Di Edgar Wallace Letto Da Dami E Grazie per la visione!